Buongiorno signore e signori, sono Duca De Baionette e mi occupo di scrittura creativa. Oggi vedremo una domanda che mi ha mandato un lettore, credo sia un corsista avanzato ma non sono sicuro, e mi dice. Ho un problema con i coprotagonisti e l'usore punto di vista. È abbastanza interessante. Mi scrive. Ciao Duca, posto la mia domanda qui perché mi sembra che il video sia pertinente. Era sotto un video dedicato ai punti di vista, quanti punti di vista è in un romanzo. È possibile scrivere una storia con due coprotagonisti oppure con due protagonisti di cui le storie sono strettamente intrecciate, ma decidere di usare solo uno dei due come personaggio portatore del punto di vista? Questo magari perché l'altro protagonista nasconde segreti che non vogliamo rivelare fino a un certo punto della trama, ed essere nella sua testa non ce lo permetterebbe. Oppure perché si tratta di un personaggio troppo anomalo per favorire l'empatia, magari ha dei problemi psichiatrici che gli provocano spesso alterazioni della percezione. L'arco del secondo protagonista può essere sviluppato semplicemente mostrando come cambia il suo atteggiamento nei confronti del primo protagonista senza necessariamente entrare nella sua testa? Grazie, un saluto. Allora, la questione è molto semplice. Prima di tutto devi domandarti qual è il punto di vista che ti serve? Perché ricorda che il punto di vista idea di una scena è quello che ha più da perdere in quella scena. Quindi anche qui noi seguiamo il personaggio portato che ha l'arco di trasformazione perché è quello che per definizione ha più da perdere nella scena, perché seguiamo la sua vicenda. Poi dei personaggi secondari potrebbero avere di più da perdere, ma non sono personaggi importanti con un arco. E quindi seguiamo lui. Quindi quando dici qual è l'uso dei due coprotagonisti, sceglierai scena per scena quello più idoneo per quella scena. Vedi l'anno dell'omuncolo come è stato strutturato. Dove tipicamente ogni capitolo in realtà ci li fa usare prima uno e poi l'altro. Ma anche lì la mezza storia di ognuno dei due è quella in cui è più importante uno più importante l'altro su questo livello di chi rischia di perdere di più, chi è più adatto a mostrare la scena a livello drammatico. Ora tu mi dici abbiamo due coprotagonisti ma ne voglio usare soltanto uno, ok? Quindi abbiamo un arco di trasformazione, un personaggio suddiviso fisicamente in due, ogni due coprotagonisti, quindi esteticamente sono due, funzionalmente sono uno. Come in l'anno dell'omuncolo o come in arma letale. Beh, se vuoi puoi usarne soltanto uno come punto di vista, lo scegli come principale. L'altro personaggio che vediamo quindi soltanto dal punto di vista del primo, lo vediamo da fuori come punto di vista del primo, sì, senza problemi. Basta che fai vedere i dettagli, alla fine i coprotagonisti semplicemente hanno un conflitto di relazione tra di loro, perché attenti non sarebbero coprotagonisti se non dovessero risolvere un conflitto di relazione tra di loro, e quindi niente, lo mostri col primo, che problema c'è? Considera che se fai un film non stai mostrando nessuno dei due punti di vista perché sono da telecamera neutra, quindi puoi anche mostrare nessuno con la telecamera neutra. In scrittura entrerai dentro uno dei personaggi e vedremo l'altro collegato. Il problema è che a questo punto diventa molto simile a una storia senza coprotagonisti. Perché la puoi interpretare in quel modo? Che non ci siano i coprotagonisti, ne vediamo sempre soltanto uno, sì, che ha un difetto che riguarda l'altro personaggio, e per superarlo bla 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 eccetera, sì vabbè, che cambia. Un normale conflitto di relazione è fatto così. Quindi se non gli dai peso a livello di costruzione della storia, come se fosse l'altro protagonista, non è un protagonista, è parte del conflitto di relazione, e basta. E non è anche un coprotagonista a parte del conflitto di relazione. Tu vedi come cambiano le cose? La tua storia improvvisamente, se non usa entrambi i punti di vista, diventa molto simile una storia che non ha i coprotagonisti, ma un solo protagonista e una spalla molto importante su cui si concentra il conflitto di relazione. E che ha un difetto simile a quello del protagonista, in realtà è simile tematicamente, può essere molto diverso. La storia può riguardare combinare al malitare una persona troppo troppo spavalda e spregiudicata e impulsiva, e una troppo... stiamo attenti a non farci del male, non codardo quindi, però cauto. Ok? E quindi vedi, è già un problema. Già non sembra più una storia che i coprotagonisti, però comunque puoi farlo, è come detto. Addirittura rischia di diventare una storia normale, semplicemente. Ok? Tu vuoi coprotagonisti per avere i due punti di vista? E' quella l'idea di fondo. Tu dici, la mia storia non è abbastanza chiara mostrando un solo punto di vista, ma mostrandone due, perché entrambi vivono fondamentalmente due varianti del difetto fatale, o due difetti fatali connessi tra di loro su quel tema, e allora ho la scusa per mostrare la vicenda con entrambi. Se poi non ne vuoi usare uno, ma allora che cacchio stiamo facendo, che tutta la questione era poter avere i due punti di vista? Chiaro? Se sono invece, mi dici, due protagonisti separati, torniamo al discorso iniziale. Ricolleghiamoci al video in cui ho risposto al dubbio di Alessandra sull'arco di trasformazione. Tutti noi viviamo archi di trasformazione della nostra vita, e tutti noi ci troviamo di volta in volta collocati in una qualche posizione del nostro arco di trasformazione. Può essere che siamo nella fase di logorio iniziale prima che un incidente scatenante ci obbliga ad affrontare la situazione. Può essere che siamo in una fase vincente al termine del climax, quindi lo strascico di settimane, mesi, anni dopo il climax in cui abbiamo vinto e ci stiamo godendo i frutti. Può essere che abbiamo fallito, può essere che siamo nella fase di resistenza e stanno tutto peggio, e siamo nella direzione in cui dovremmo deciderci ad affrontare e passare il nostro difetto fatale oppure soccombere, per far andare le cose male, andare in direzione di una tragedia. Può essere quello che vuoi, ma siamo tutti in un arco narrativo. E ogni personaggio che è presente nella tua storia, puoi ragionarlo come posizionato da qualche parte in un arco. Il tuo personaggio potrebbe incontrare quel capo della polizia, o quel poliziotto fai. Il tuo personaggio è il tuo protagonista, è un personaggio molto ribelle, molto uno che viola le regole, ma li viola sa fin di bene, e nel suo conflitto di relazione deve essere in grado di aiutare a cambiare questo personaggio, che poi lo aiuterà grazie al suo cambiamento. Classico conflitto di relazione, ok? E questo personaggio è un poliziotto che deve imparare che le regole non sono tutto, e che certe volte per fare il bene, per far veramente rispettare la legge, devi essere un po' elastico sull'interpretazione della legge, che non mi fa impazzire come idea. Il pericolo è sempre di fare i poliziotti fascisti un modello di S.H.I.E.D., però va bene così. E anche qui, quel tizio che avrà quel cambiamento a tutti gli effetti ti stai trovando probabilmente nel midpoint della sua storia. Lui fino a quel momento è stato in resistenza, a un certo punto è obbligato perché le cose vadano bene a cambiare. Sì. Quel personaggio che ha semplicemente il personaggio secondario che ci faceva da principale conflitto di relazione, il principale aspetto del conflitto di relazione del nostro protagonista, in realtà si trova anche in una vicenda. E magari quando il nostro personaggio supera il midpoint, e grazie al fatto che adesso si è ribelle, è un ribelle che si viola le regole, fa le sue robe, ma non è strafottente come prima, prima era arrogante, strafottente, quindi non riusciva a fare breccia nel cuore dell'altro poliziotto. Adesso lui nel midpoint ce l'ha fatta, è meno arrogante, meno strafottente, quindi viola le regole, ma le viola in modo più intelligente, ok? Senza attirare attenzione, senza farsi nemici inutili. Magari arrivati a metà della seconda metà del secondo atto, quindi parecchio dopo il suo midpoint, ok? Reincontra questo poliziotto che sarà vitale, che è una fase di questa situazione di vittorie più o meno di Pirro, perché sta vincendo avendo superato il difetto fatale, anche l'associazione è sempre peggiore, si trova a trasformarlo in questo modo, quindi magari siamo più o meno a due terzi dell'arco, lì c'è la metà dell'arco di quest'altro tizio, su midpoint, ok? O magari c'è un'altra cosa, noi rappresentiamo questo protagonista poliziotto come una persona che ormai vive veramente male, è depresso, ha perso il suo compagno, ha perso il suo compagno perché il suo compagno ha fatto una cazzata, e lui adesso si è erradicato nella convinzione che bisogna rispettare le regole, non bisogna fare l'erroio, eccetera, eccetera, è in piena, come si chiama, discesa? Non mi ricordo più i termini che sono da Marx, è nella fase traumatica post-esperienza di morte prima della trasformazione, e magari a due terzi della nostra storia, oppure nel nostro midpoint, del nostro personaggio, lui fa breccia in lui e col proprio cambiamento gli permette la metamorfosi, che lo fa uscire dalla situazione di discesa, di degrado, chiamatela come volete, conseguente alla sua esperienza di morte, vedete come è tutta rappresentabile come se gli altri personaggi importanti, ma direi tutti, siano collocati su un proprio arco di trasformazione, che non ti serve sapere, cioè tu sai che lui è così, ma non sai l'incidente scatenante, non sai la sua chiamata all'azione, non la sai la sua storia, c'è un solo dettaglio, lui ha perso il suo collega in una situazione tale, da averlo convinto, riconvinto, come già una volta pensava, che bisogna rispettare le regole in modo estremamente preciso, perché la volta che hanno cominciato a non rispettarla, a fare di testa loro, a fare gli eroi, quello è finito, morto, in modo terribile, potrebbe essere rimasto traumatizzato e adesso è diventato un... è diventato rigidissimo, bloccato, eccetera, ma arriverà una crisi gravissima, ok? Una crisi gravissima che ne permette la metamorfosi, cioè capisci che avevi ragione prima e il catalizzatore di questo cambiamento sarà il nostro personaggio che è già cambiato prima e che senza più cambiare lui, per lo meno non adesso, fa cambiare questo, agendo da catalizzatore. Questo non è il concetto di protagonista catalizzatore vero e proprio, cioè quasi. C'è una lezione nel corso di sceneggiatura che apparirà prossimamente, adesso se state guardando il video nel 2021 non è ancora apparsa, se lo state guardando inizio 2022 sarà sicuramente già apparsa, comunque fa da catalizzatore, adesso non prendete questa come la definizione completa, ma ha il senso più o meno, ok? Quindi, come detto, sì, puoi avere non solo questi personaggi secondari, ma anche veri e propri protagonisti, perché alla fine tutti sono protagonisti della propria storia. Quindi mettiamo che tu hai detto che è quest'altro personaggio che voglio rappresentare una vicenda molto importante che si lega a quella del mio, la strutturo con l'arco completo e ne voglio fare vedere delle parti, o anche molte parti, tramite il punto di vista del mio personaggio, va bene? Non è in fondo ciò che succede in una sfida tra il protagonista e l'antagonista. Anche dall'antagonista vediamo le vicende. Magari non vediamo tutto l'arco, magari vediamo soltanto la fase che lo porta dal midpoint vincente, in cui è diventato un pezzo di merda che sta vincendo in questo modo, ok? Ma che però ha in nuce, essendo un superamento incompleto, la propria possibilità di fallire, e lì arriviamo al momento in cui lui cadrà nell'esperienza di morte. Perché magari il climax vincente del nostro protagonista è l'esperienza di morte dell'antagonista. Perché poi immagina che fuori dalla storia l'antagonista sconfitto, ok? Se non è ammazzato, potrebbe poi capendo il proprio errore cambiare, metamorfosi, e diventare una persona migliore. E qui ci colleghiamo al tema ad esempio delle vicende tragiche, in cui dopo l'esperienza di morte, secondo punto di cambiamento importante, il personaggio può salvare il salvabile e non avere un arco completamente tragico. Quindi il nostro grande antagonista sconfitto, non lo so, guerra dell'ira, Morgoth è stato sconfitto, Sauron ha capito la lezione, invece di continuare a fare il cattivo, dopo l'esperienza di morte, adesso non so se va bene come esempio, prendetelo per buono. Dopo l'esperienza di morte, la grande sconfitta, the black one fallen from the sky, come dicevano i blind guardian, e tutte le altre robine, insomma è cascato del drag enorme, sono sfondate le torri, Morgoth ha detto vabbè borgoddio lanciatemi nel vuoto senza tempo, e Sauron se la svigna nei passaggi sotterranei, che cavolo che era, e che succede? Dice va bene ho capito, il male non paga mai, fammi bravi ragazzi, apre un franchise di frozen yogurt. Nella sua metamorfosi, come conseguenza di questa esperienza di dolore, magari lui nella fase di metamorfosi dopo la discesa dell'esperienza di morte, insomma dopo la fase in cui diceva, ah che schifo, no vendichiamoci, no che brutto, no la vita va schifo, andò tutto male, eccetera eccetera, lui che ne so, vede un Hobbit che se mangia il gelato, ah no siamo alla fine della prima era, il Hobbit arrivò nella terza, non mi ricordo più, vabbè, vede qualcuna che se mangia un gelato, lui essendo comunque ancora corrotto dal male non gli viene da fare un franchise di gelateria e fa un franchise di frozen yogurt, perché è incredibilmente malvagio, esattamente come i personaggi di The Good Place, che è una serie che vi consiglio far ridere tantissimo, non posso farvi spoiler però. Quindi capito? Puoi ragionare chiunque come se avesse un arco di trasformazione, poi magari a uno glielo sviluppi per intero ed è il tuo caso che mi dici, è un altro protagonista di un altro arco che vediamo soltanto tramite gli occhi dell'altro personaggio di cui veramente eseguiamo l'arco e la storia. Va bene? Unica cosa, quando vuoi fare più archi completi, modello storie seriali, questo poi è tutto trattato nel corso di sceneggiatura, se state guardando il video appena uscito, la lezione non è ancora uscita, è ancora in bozze, perché sto lavorando pesante adesso a completarla, anche perché sto lavorando con degli autori che pubblicheranno prossimamente, ci sono alcuni progetti interessanti in cui non vi posso parlare per motivi di riservatezza, che richiedono storie corali e seriali assieme. E quindi stiamo esplorando ancora di più certi dettagli, facendo cose interessanti che riguardano anche il non mostrare tutto, tutti gli aspetti dell'arco tramite il proprietario dell'arco, ma mostrarli quando sovrapposti all'aspetto dell'arco di un altro tramite il punto di vista di quell'altro. L'importante è che si capisca tutto, ok? Poi sono cose per i dettagli, corso avanzato di sceneggiatura, penso per fine anno riuscirò a pubblicare la lezione, ma al che vada per gennaio, è proprio lì in bozza che aspetto di essere sicuro che sia pronta prima di pubblicarla. Ok signori? Bene, poi è stato abbastanza chiaro, pensa sempre a questo, ricorda sempre tutte le persone hanno il loro arco, tutti noi abbiamo il nostro arco, tu hai il tuo arco, il tuo nuovo arco, passato un arco se ne fa un altro, eccetera eccetera, e in quest'ottica vedi come il discriminante che tu pensavi coprotagonista protagonista diventa ben poca cosa, ok? Se non per scegliere chi ha il punto di vista. Bene signori, spero che sia tutto chiaro, vi ricordo che fino a martedì 30 novembre alle 23.59 potete sfruttare la mega offerta del Black Friday per accaparrarvi i miei corsi di scrittura e sceneggiatura a un prezzo assolutamente bassissimo e a tema coprotagonisti, perché vi sarà molto utile, vi ricordo che comprando il doppio corso a 700 euro c'è in omaggio, oppure anche l'offerta da 1000 con il pacchetto degli archivi, prezzi già scontati al 10% per chi sceglie di pagare in soluzione unica invece di pagare a rate, c'è l'analisi completa del romanzo L'anno dell'omuncolo. 6 ore e 44 di contenuti divisi in 11 lezioni in cui analizzo frase per frase in scrittura immersiva il primo capitolo, circa un 10% del libro credo, 12% non mi ricordo, è lungo, e analizzo la storia, che è una storia con i coprotagonisti e tra l'altro con un modello che può interessare molto a chi ha fatto questa domanda, perché è un modello particolare dove abbiamo, non posso fare spoiler giusto, non è un arco eroico e basta, abbiamo delle trasformazioni alternate che portano a un risultato non perfettamente d'arco eroico, non faccio spoiler, è un casino, anche perché sono dei bei colpi di scena e potrebbero piacervi. Quindi bene signori, spero che la risposta sia stata utile e ci si becca al prossimo video, ciao!